Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video nel quale andiamo a conoscere questo sistema di Givi per i telaietti dedicati alle borse morbide. Questo sistema viene chiamato Removix, è composto fondamentalmente da due componenti principali. Il primo è questo, questo pezzo in plastica che è standard, va abbinato ad un attacco specifico, quindi una piastrina che va ad adattarlo ad ogni tipo di moto, quindi ogni moto avrà il suo kit, chiamiamolo, e un telaietto ad aggancio rapido che andremo adesso a vedere nello specifico come si monta e si smonta dalla moto in pochissimi secondi. I telaietti sono standard, abbiamo quattro modelli e a seconda della linea e del tipo di moto andiamo ad abbinare il telaietto che riteniamo più appropriato a livello funzionale ed estetico. Andiamo a vedere meglio il sistema di aggancio e sgancio. Abbiamo l'attacco che come dicevamo resta montato sulla moto, la leva dove c'è scritto X-Pool ha una levetta inferiore che premiamo per andare a sbloccare il fermo. Andiamo ora a inserire il telaietto, lo sgancio aperto, lo posizioniamo in questo modo e andiamo a bloccarlo con il suo fermo in questo modo. In questo modo il telaietto è montato, bloccato, quindi potete procedere montando le vostre borse seguendo le istruzioni di montaggio che troverete incluse. Per rimuovere i telaietti semplicemente faremo l'operazione al contrario, ossia andiamo a liberare il fermo, prendiamo il telaietto e facciamo questo movimento, richiudendo il fermo. Come avete visto in pochi secondi sarete in grado di montare e smontare questi telaietti solo nel momento in cui avrete il bisogno di trasportare dei bagagli e montare delle borse morbide. Spero che sia tutto chiaro, per ulteriori informazioni visitate il nostro sito www.gvmoto.com Ciao a tutti! Ciao a tutti!